Eccoci di nuovo in studio con il dottor Mauro Guerrini, consigliere comunale del Partito Democratico, candidato alle primarie del centro-sinistra. Salutiamo anche gli ascoltatori di Radio Stella Città che ci stanno seguendo in diretta sui 101 e 200 di Radio Stella. Dicevamo, andiamo al concreto, ai problemi che poi la gente vive sulla sua pelle. Lei faceva riferimento a quello che è sicuramente il problema maggiore per Civitavecchia, ossia quello della disoccupazione. Ma in un quadro in cui a livello nazionale vediamo che siamo in piena recessione, è inutile nascondersi dietro le stime che vengono puntualmente ritoccate al ribasso sulla crescita del PIL che non c'è, anzi appunto regredisce da parte dell'Istat e dei vari organismi che si occupano di questo. A livello cittadino che cosa si può fare secondo lei con una scarsità di mezzi e di risorse per cercare di, se non altro, arginare l'emorragia di posti di lavoro ma anche per cercare di crearne di nuovi? Allora, questo è il motivo per il quale uno si impegna in politica, più che raccontare le veche interne di bottega, insomma. Perché poi alla fine sembrerebbe una lotta per il potere per farci che cosa? È proprio un'impostazione che noi vorremmo dare per porre in capo a tutti gli interessi politici la questione dell'occupazione, che io l'avverto in un modo drammatico e molto intenso e ne sono particolarmente sensibile. Forse anche perché io provengo da una famiglia che ha avuto delle difficoltà provenendo da classe operaia. Per cui oggi registro che tantissimi ragazzi, giovani, i quali non trovano più un'occupazione, e questo è un dato comune, ma ormai sono talmente disillusi e non hanno più alcuna speranza, al punto tale che non neanche lo cercano più. Questa è proprio la caporetta, insomma, della spinta di un giovane che è piena, dovrebbe essere piena di vitalità, di energia e di forza per affermarsi nella vita. Per non parlare dei cinquantenni, insomma, lì dove la partita si fa difficilissima e dove la città è colpita proprio come un'onda da questo tsunami della disoccupazione, peraltro prevista nel momento in cui altri accettarono la trasformazione della centrale da olio combustibile a carbone, si capì perfettamente che le imprese avrebbero dovuto lavorare per il tempo della trasformazione e dopodiché iniziava questa onda malefica della disoccupazione. Adesso siamo nel pieno, il 30 di dicembre centinaia e centinaia di operai non avranno più la cassa internazionale. Altri cinquecento circa, secondo l'estima del sindacato. Cinquecento persone, quindi cinquecento famiglie che il primo gennaio non avrà neanche un euro. Questa è di una gravità sconvolgente. Io reputo anche che la classe politica ha tutta la responsabilità oggi di non aver fatto per tempo tutte le iniziative, intrapreso tutte le iniziative indispensabili per poter contenere questa onda d'urto che adesso ci investe in pieno. La città si trova a fronteggiare e a dover risolvere un problema di una difficoltà enorme. Ecco, secondo lei come si può cercare di intervenire? Dove si può arginare subito? Naturalmente dobbiamo porre l'attenzione sempre ai soliti due grandi motori economici della città. Più che parlare di terme, cose che al di là di venire, io ne sento di tutti i tipi. Ultimamente ho sentito un treno che parte a vapore dal porto e raggiunge le terme, cose di queste fantasiose e così che non troveranno mai nessun futuro. Piattaforme logistiche o Italia, aeroporti, strada, autostrade, via di questo, oceanari, ovvero acquario. Di quello, c'è tutto un mito intorno a questo progetto. Non dovresti ripensare all'emergenza che è immediata. All'immediato, subito, che cosa mi ha insegnato? Allora, il porto ci dice il nuovo presidente che sono arrivati finalmente quei soldi bloccati nell'epoca del presidente Ciani, al famoso Cipe che poi non arrivano mai. Adesso da lì dovrebbero incominciare i lavori. Mi dicono che è aperto le gare internazionali per cominciare le opere, le grandi opere, che sono per l'appunto la darsena traghetti, mi pare di aver capito. Il prolungamento dell'antimurale e la darsena servizi. Quelle sono opere gigantesche. Adesso ci piacerebbe molto però, come metodo, che il presidente Monti ci dicesse pure quando inizieranno effettivamente i lavori e quando termineranno. Ma più ancora, opera completata, quante persone verranno impiegate stabilmente con un lavoro quindi a tempo indeterminato da quell'opera che va a realizzare. Bisogna che noi siano informati. Ecco, noi vogliamo essere informati. La città deve essere informata perché deve sapere che a opera conclusa ci sarà bisogno di 100 persone, magari 100, molto meno temo, di decine di persone con queste specifiche qualifiche. I nostri giovani possono già prepararsi, no? Certo, comunque pensare anche a dei percorsi formativi ad hoc. Formativi ad hoc per tempo. In funzione fa bisogno delle figure. Perché noi, tra l'altro, come abbiamo sempre detto, abbiamo vissuto questa stagione incredibile in cui il Porto viveva per conto proprio, la città per converso dall'altro suo lato. Erano due sindaci che non comunicavano in buona sostanza. Ecco, ora che c'è questa sinergia, questo accordo, questo patto per la crescita e l'occupazione tra città e Porto, proprio l'onorevole Tidei lo ha definito soltanto uno spot elettorale. Io mi auguro che non sia assolutamente uno spot elettorale, anche se il clima adesso da campagna elettorale ci deve preparare a sentire di tutto e di più di tutto, insomma. Però bisogna andare alla sostanza. Però direi che questa sinergia secondo lei è necessaria. Ma sì, ma era inconcepibile che ci fosse stata. Noi abbiamo vissuto un periodo inaccettabile da questo punto di vista. La città è il contorno del Porto, come si fa a differenziarlo? Due mondi totalmente separati, non era possibile. Adesso il nuovo presidente, che è di Civitavecchia, animato da tutti, conosce bene i problemi perché è stato anche assessore, penso che dovrà operare bene. Però noi vogliamo, e io torno a ripeterlo, ho chiesto attraverso una specifica mozione, che lui venga in aula al Consiglio e ci spieghi a tutti quanti, ufficialmente, formalmente, quale sono le linee di programma per i prossimi anni, che cosa consisteranno gli interventi, quant'è la disponibilità economica da parte loro per sostenerla, quando iniziano le opere e quando finiscono. E quanti persone lavorano? No, noi vogliamo saperle. Questo è da un lato, l'altro lato è il polo energetico. Adesso ho sentito, noi tutti abbiamo sentito, che Tirino Power ha mostrato i muscoli dicendo se non mi fate fare il quarto gruppo, io mando via 62 operai, maestranze, lavoratori. Non proprio in questi termini, diciamo che hanno sottolineato come ci siano 62 persone che lavorano. L'hanno letto però in questo modo, tra l'altro queste potenti industrie ci hanno abituato a un linguaggio di questo tipo, poi i fatti li seguono immancabilmente. Ora, innanzitutto Tirino Power sta sbagliando completamente il porsi nei confronti della città in questi modi. 62 posti di lavoro non sono neanche messi in discussione, ma non un posto, neanche un'ora di lavoro. E questa è la classe politica, non glielo deve proprio consentire mai. E poi, secondo me, il loro problema va messo all'interno e va discusso all'interno di un polo energetico, perché non è un problema di rinnovare, è tutto il polo energetico che deve ritrattare gli accordi con il comune. Il comune deve aprire un'avvertenza col polo industriale e riposizionare bene tutti i termini dell'accordo. Ecco, in questo caso da medico, peraltro da medico pneumologo, quindi... Sì, però vorrei di due cose... Sì, 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 però un aspetto che credo sia importante. Perché poi ci sono posizioni su questo, al di là della tecnologia delle biomasse, di quant'altro, di chi dice pregiudizialmente, ci sono anche molti medici, al di là del tipo di tecnologia, questo è un territorio su cui non si può accendere neanche un cerino. Così l'ho sentito dire. Esatto. Lei, intanto, da medico e da cittadino impegnato in politica, che cosa ne pensa? Nel senso, si può comunque impostare un ragionamento e valutare un tipo di progetto, poi, che possa essere appunto con energia rinnovabile o meno, o la situazione di Civitavecchia come ormai polo industriale, perché poi bisogna prendere atto di questa realtà. Cioè, Civitavecchia è un centro, un polo industriale con tutti i problemi di carattere ambientale, quindi anche epidemiologico, che hanno i poli industriali e quindi non si può e non si deve parlare di nient'altro. La sua posizione qual è? Allora, non è la mia posizione, io volevo fare questa considerazione, per chi ha responsabilità amministrative deve ragionare con i piedi per terra. Si tratta di saper conciliare due esigenze opposte. Da un lato il lavoro e l'occupazione, che è importantissima, e dall'altra la tutela dell'ambiente e quindi la salute dei cittadini. E sono due spinte divaricanti. Bisogna sapere, con la massima intelligenza, saggezza, trovare un punto di incrocio. Ecco, gli economisti lo chiamano il trade-off, ossia la linea di confine, il compromesso, se vogliamo, in qualche... Beh, io proprio li vedo come due rette che si devono incrociare in un punto di equilibrio. E il punto di equilibrio non è certo il sindaco che può trovarlo. Lì deve esserci una concertazione chiara tra le forze politiche tutte, le forze sindacali, le parti sociali e i movimenti ecologisti. E insieme trovare, se ci si riesce, il famoso tavolo tecnico nel quale trovare un punto di intesa che vada bene alla città. Abbiamo ancora un minuto per concludere, diciamo, questo tema spinoso, che è quello appunto del lavoro e dell'occupazione, poi nelle prossime trasmissioni. Sì, insisto tanto perché il nostro light motivo è il perno per il quale noi ci siamo impegnati in politica, non ci sono altri motivi. E quindi comunque, secondo lei, Porto e Polo Energetico sono le due rettrici. Però, scusi, noi c'è due considerazioni secche prima che ci rilasciamo. Allora, la città è in credito dei posti occupazionali nei confronti del Polo Energetico per la meno di 500 persone, 500 posti di lavoro. E c'è un motivo per cui esce fuori questo numero di 500 posti. Non abbiamo più il tempo per spiegarlo, ma c'è. Seconda considerazione, non possiamo riparlare di niente su questo problema, fin tanto che non si sono messe in atto tutte le opere compensative che si sarebbero dovute fare prima che i due centrali, le due centrali per l'appunto, andassero al regime. Allora, loro sono andati in regime a piena produttività. E la città è ancora in attesa che vengono messe in atto le opere compensative previste dall'accordo contrattuale. E questo non può essere. E' in credito, dice lei, di 500 posti. E tra l'altro è da un punto di vista delle opere compensative e anche dal punto di vista occupazionale. La città è in credito. Adesso qualcuno deve andare a bussare questo credito. E ovviamente lei si candida per sfondare la porta nel caso. Perché non ho capito per quale motivo si continua ancora a tergiversare, quando peraltro c'è una situazione contingente di disoccupazione disastrosa. Bene, grazie al dottor Mauro Guerrini. Appuntamento a presto nei nostri studi per illustrare altri punti del suo programma per le primarie. Noi ci vediamo invece domani alle 19 con Newsroom. Buon proseguimento su Provincia TV. La linea va al nostro telegiornale. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.